Benvenuti a tutti nel video della Big Family Ciao a tutti i big amici e benvenuti in un nuovo video della Big Family Allora ragazzi Io sono andata all'asilo È vero è andata all'asilo Però ragazzi è andata all'asilo E appianta un pochino quando mamma l'ha lasciata Vero? Vabbè ma è normale Però poi dopo si è tranquillizzata Diciamo ha fatto il contrario di ieri È vero Ieri ha pianto quando è tornata dalla mamma Ovvero quando stava tornando alla casa in mattina È vero E non ha pianto quando l'ha lasciata Oggi invece ha pianto quando l'ha lasciata Ma non ha pianto quando l'ha prendere E invece era bella tranquilla Tranquillissima E ti sei divertita all'asilo amore? Ti sei divertita oggi? Hai fatto amicizia e hai incontrato qualche bimba Cioè hai fatto amicizia con qualche bimba Hai giocato con qualche bimba Allora ragazzi Ora io mi seguo tutto che ho fatto all'asilo Ok Allora abbiamo lo cazzo Abbiamo di delato Abbiamo chi c'è il mio nome Wow Un sacco di cose E poi mi metto e mi ha fatto parlare di pipì Davvero? Sì? Brava Ti piace l'asilo? Allora da domani Anche domani ci vai Ok? Ci vuoi andare ancora tu domani? Sì? Ok E tu Serena come è andata a scuola? Benissimo Ho fatto geografia Poi ho fatto Guardate chi c'ho Allora niente Cos'è che stai dicendo? Allora io ho fatto Due ore di geografia Un'ora d'inglese Un'ora d'italiano Ma cosa c'ha fatto a questo pupazzo? È un sacco di tempo che Non ho Serena ha paura di questo pupazzo Ragazzi È un sacco di tempo È un sacco di tempo che non lo tiriamo fuori Ma chi è che l'ha tirato fuori? No io no Dove andare a mettere i lani così Il sacco di spazi Mettiamolo qua Mettiamolo qua Ragazzi guardate quanti pupazzi che hanno E questo è niente È un sacco di tutti i pupazzi È mio questo Ma non so come va chi è che l'ha tirato fuori Soprattutto quello Che non ci avete mai giocato È vero il più brutto di tutti Vai dai mettiamolo via Anche perché Continuano a lasciare tutto il giorno la roba E cosa stavi dicendo Serena? Ah stavo dicendo che ho fatto due ore di fotografia Un'ora di inglese Un'altra ora di italiano Italiano e un'altra ora di religione Ah beh dai Mamma Eh sì avete iniziato alla grande vero? Mamma Adesso vi faccio vedere i compiti che avevo Perché ho Però allora Serena Dai vai Adesso vi faccio vedere i compiti che Dovevo fare Allora dovevo fare Grammatica Nuovo libro Pagina Mamma Ma chi è che l'ha messo lì? Ma chi è che l'ha messo lì ancora? Io Amora Amma non l'ho messo fatto Amma Chi è che l'ha messo qua ancora? Dai l'hai preso tu amore? No Non l'hai preso tu? Sei sicura? Tu sei sicura? Sì Non l'ho messo io No Non l'ho messo io Ma Chi l'ha messo? Eh io l'ho messo dentro il sacchetto Eh non so Dai dammi che lo rimetto via Dai Dai E poi smettetela di fare gli scarci L'hai preso tu Serena? No Sei sicura? Sei sicura Dai No Dai un po' bruttino sto pupazzo Se Dai Mettetemi Aspetta che lo rimetto nel sacchetto Dai 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 un po' bruttino il sacchetto Rimettiamo nel sacchetto sto pupazzo Guarda che adesso ti lo prenda Smettetela un po' Allora comunque stavo dicendo Ok Che Ho fatto pagina 8 e 9 Ok E in più questa scheda qua Allora vi già farei di fare Questa scheda qua No mi manca di scrivere questo Ovvero Ovvero la parte Cioè la parte che mi ha compito di più Dell'uogo che siamo andati Ovvero in Toscana Cessina Aspetta fammi vedere Andiamo di là un attimino a vedere Due secondi Se si è scongerato Il pollo Ok Perché stasera si prevede di mangiare pollo al forno Vai mamma Che buono al pollo Che buono al pollo Non vedo l'ora di mangiarlo Allora adesso vi faccio vedere la frutta che ha comprato la mamma Spera Giulia Per andare così Ah mamma Che sei Mamma Vieni C'è il pupazzo Ancora Dai smettila No mamma Non sono stata io Giura Non vale le corne o le croce Non c'ho le gambe Ancora Dai qua mi state facendo lo scherzo No Non ti vuole essere pupazzo Fai una cosa Lascialo qui E basta Basta Così Almeno è già fuori E nessuno mi fa più gli scherzi Sì comunque si si è scongelato Serena Ora niente Andrò a mettere la roba in asciugatrice Serena Ok Ok Sì perché la lavatrice Ragazzi perché qui come avevo detto C'è sempre da lavare Da stirare Questa è già la seconda e la terza Oggi Mamma mia Cos'ha Serena Dai smettila Serena Oh madonna mamma No chiudi Io ho paura Serena Mamma Smettila di verso scherzo Non sto scherzando Ho anche giurato Non sto ridendo Madonna aspetta Un attimo Ma ti rendi Con Madonna E' impietante Questa cosa Ma è vivo mamma No Che schifo Mamma è vivo Che schifo Ma è vivo mamma Sembra che abbia un'anima Sto pupazzo Oddio Che schifo Che schifo Allora Mi sta venendo un'ansia Mamma Mi sta venendo un'ansia Mamma mia Ancora No ma davvero Siete sicuri Che me lo toccate voi No C'è lo stupupazzo Qui c'ha un'anima Io non lo so Sbuca dappertutto Sembra che ci sta spiando Allontanalo Serena Ti prego allontanalo Allontanalo Ti prego Sembra che ci sta spiando Sembra che ci segue Hai paura amore Ho paura Lascialo lì Vanno a mettere di là Dentro il sacchetto Amore Vanno a mettere di là Dentro il sacchetto Sembra che ci sta spiando Veramente Allora Va Sembra che ci spiando Quel pupazzo lì Sì 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 Allora Ciliella Sei pronta le mani Per andare all'asilo Sei pronta? Speriamo bene ragazzi Perché? Speriamo bene Non piange Quando la lascia Infatti Perché oggi Come avevo detto Ha pianto Ma domani vai all'asilo È vero? Non piangi Dì che vanno No Non devi piantere Dì che vanno Ragazzi Te lo assicuro anche Ah vi dico una cosa Mamma Gio Mamma Gio Ha pianto Stamacchina Sì Mi è venuto un po' Il magone Quando l'ho lasciata Perché non mi faccio Vedere da lei Dai Non me l'hai detto Eh sì Eh 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 vabbè Sono mestieri duri di mamma Di mamme Vero? Sì Serena Lo sa che Mamma Gio È sensibile E si mette a piangere Si commuove Si mette a piangere anche di nascoste Perché non si vuole far fidare dagli altri C'è tipo si mette il manco di nascoste E si commuove Ma è normale Penso quale mamma Non ha Serena Girati un po' Mamma 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 No veramente Non come so Non questo aiuto Mi sto venendo l'ansia ragazzi C'è questo pupazzo qui Che ci continua A spiare Mamma Quanto Tu che sei lì Ho bravuto E non c'è il pupazzo lì Mamma No non è possibile Ragazzi Non è possibile Si è nascosto dietro la pianta Adesso Ma vi rendete conto? Io quasi quasi direi di buttarlo via Andiamo a buttarlo dentro le mondizie Serena Andiamo Allora Serena Io direi brava Hai fatto bene a buttarlo via Perché Ne ho abbastanza di quel pupazzo lì Anche io Andiamo di là magari A vedere cosa fa Lorenzo Magari a guardarne un po' Allora guardate il Lori Che sta Giocando con la macchinina Giocando con la macchinina Lorenzo Cosa c'è amore? Cosa c'è? Cosa c'è amore mio? Cos'è che indica Lori? Cosa c'è amore? Cosa c'è? Cos'è che indica? Oh mamma mia Il pupazzo Guardalo dove è Serena? Ecco cos'è che indicava Guarda Lori infatti Cioè ma l'avevi buttato L'avevi appena buttato Com'è possibile? No Questo pupazzo qua ci sta Ma come possiamo buttarlo? Allora non ti butta Guarda Chi ce l'ha detto Lorenzo infatti Grazie a Lorenzo No ma non è possibile Lancialo lì Perché tanto sbuca fuori dappertutto No ragazzi Noi siamo ancora perplesse Per quello che sta succedendo Ma veramente stavate Cosa c'è amore Le tizze cosa c'è? Le tizze cosa c'è? Le tizze C'è un minato Oddio Oddio Oh madonna Mamma mia Veloce No ma ti rendi conto? No ma ti rendi conto? Serena dove stai andando? Aiuto Cioè ma ma No ma ti rendi conto? Serena addirittura dietro il divano E ci stava giocando Lori Niente ragazzi Io direi di chiudere qui questo video Che mi sa che è meglio Noi ne abbiamo fatta una oggi Non so neanche cosa dovevamo fare Vabbè comunque Niente C'è sto robo Che ansia mamma mia Continua a spuntare dappertutto No ho un po' paura No ho un po' paura di andare a dormire Che magari ce lo troviamo di notte Sul letto Lui qua che mi osserva Io qua Oh mamma mia Niente ragazzi Io direi di chiudere questo video Io ho i miei occhi Ma cos'è il tumore? Io cazzo Scalli così amore Sì La sera l'ho visto Dopo me ne ho visto Io cazzo Niente ragazzi Cosa fai Serena a dormire? Serena fa finta di dormire Niente ragazzi Io direi di chiudere qui questo video Spero che questo video vi sia piaciuto Con un po' di Di paura Speriamo che non sbuchi più fuori Questo pupazzo Almeno Fino a stasera Spero che non sbuchi più fuori Anzi che non sbuchi più fuori mai più Perché Inquieta un po' troppo Me lo sono trovata anche dentro l'asciugatrice Niente Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Squalliciate Iscrivetevi al canale Per chi non si è iscritto Mi raccomando Perché siamo arrivati Ai 9000 1090 No siamo arrivati 2050 Scusate 2050 Serena Niente Seguiteci sui social Instagram e TikTok E noi ci vediamo domani Al prossimo video Della Big Family Ciao Big amici Ciao Ciao